I rustici fanno cappotto e chiudono il Carnevale di Fogliano della Chiana, il più antico d'Italia, vincendo con il carro e anche con la mascherata. Il verdetto della giuria, sigillato in cassaforte già dalla prima domenica di sfilate, è stato annunciato in una piazza gremitissima dopo la tradizionale scena del funerale di Reggio Condo, impersonato da un fantoccio gigante portato in piazza e bruciato. È la ventisettesima vittoria che arricchisce l'elenco nell'albodoro del cantiere che quest'anno ha conquistato i giurati con terapia d'urto. Al centro la figura di Amleto, allegoria degli intellettuali che si perdono in dissertazioni, mentre il mondo versa in condizioni disastrose. Secondo classificato il cantiere degli Azzurri, a pari merito poi Nottamboli e Bombolo. Si archivia così la 485esima edizione del Carnevale di Foiano, considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie che per la tradizione storiografica. Il cuore dell'organizzazione ruota attorno ai quattro massodontici carri allegorici realizzati da altrettanti cantieri. Quella di quest'anno, infine, è stata un'edizione da record con oltre 15.000 tagliandi staccati.